allora iniziamo oggi vi presento come fare la registrazione su i marketing si schiaccia il link si va su chrome ok vi uscirà una pagina con scritto market bot i marketing a destra in alto ci sono i tre puntini uno sopra l'altro le schiacciate vi uscirà in basso ac di iscriviti schiacci ac di iscriviti poi vi usciranno queste quattro icone ok non le schiacciate schiacciate solo solamente unicamente l'ultima a sinistra del vostro schermo quella blu con una forma di mezzo cento una forma di cervello ok la schiacciate in questo caso a me apparirà io sono già iscritto vi apparirà il vostro nome però in quel caso qua voi apparirà se non siete registrati vi apparirà una serie di campi da registrare di cui il primo in alto che vi uscirà che già dentro c'è dentro una stringa lasciate così com'è partite dal vostro nome username inserite tutti i vostri dati continuate e finite l'accesso finite in pratica confermando il vostro la vostra registrazione dopodiché aspetterete in pratica dalle 24 alle 48 ore sarete registrati dovete confermare la vostra email che vi apparirà appena vi siete registrati se dovessero darvi problemi perché non trovate i 50 dollari su ad balance una volta effettuato e finita la registrazione in caso mi contattate vi spiegherò come fare per il resto buona serata e buona giornata a tutti ciao